Oggi vi presentiamo la tecnica giapponese per imbiancare le abitazioni. In questo momento, un specialista in possesso della certificazione nazionale sta imbiancando con un rullo. Partendo da una base color crema, dipinge in modo da far risaltare un grazioso motivo a mattoni. Grazie per la visione! A proposito, nei cantieri giapponesi è comune indossare pantaloni alla zuava spessi, come questi, chiamati nicca-pocca. In questa tecnica, il colore viene steso nella quantità corretta regolando la forza della mano che sostiene il rullo. E' inoltre necessario scegliere con cautela il rullo da usare. Inoltre necessario Presso l'azienda responsabile di questo lavoro di imbiancatura Lavorano sette specialisti con abilità simili Infatti, l'azienda stessa si chiama Specialisti dell'imbiancatura Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Cosa ve ne pare di questa finitura? Sicuramente il cliente di questa casa sarà entusiasta del risultato Grazie a tutti! Grazie a tutti!